Uoooooooooo Intro 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 Burloni ciao a tutti Gente qua è DeMarc Bella a tutti burloni sono Bella a tutti DeMarc In questo nuovo episodio della Vanilla Numero Ah ok Numero 11 buon Marcellino Sai che ci stavo azzeccando, stavo dicendo 12 Ci sta, dai bomber, allora, oggi cosa faremo, brutta gentaglia? Oggi cosa faremo, vai, andiamo nel Nedra Andiamo nel Nedra, farò un giro di esplorazione Magari questo episodio qua, se viene un po' lungo Lo faccia diventare di due episodi E poi, tra due episodi, li faremo la stanza in Nedra per bene Allora, buon Marcellino Non vanno i sound, quindi rifacciamo il regolino L'obiettivo di oggi è quello di trovare 10 stack di magma block Ma ce li ho già i stack di magma block Prima cosa Auto jump Ce li ho già il magma block? Minchia, ce non botti il magma block Guarda, lo dico perché magari la gente dice No, te lo sei citato, là in fondo C'era un fottio di magma block Vedi che là che ce l'ha rientrato, anzitutto Allora, allora Perché sono bravo, non cito Cerchiamo una fortezza E là in fondo? No, andiamo a destra, metto il remoto Dove è a destra? Là? Andiamo là in fondo Se andiamo dietro, allora vai dietro Dietro non sono mai stato, io sono andato la destra l'altro giorno da solo Mentre voi registravate Poi sono andato dritto mentre registravo Quindi qui di qua non sono mai andato Andiamo? Andiamo di qua Comunque sentiamoci le coordinate del portale F2, F1, F3, F2 F3 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 Ok, a posto Ragazzi, se volete farmi una donazione Mi raccomando In live su Twitch Mi raccomando Link in descrizione Bella Non avevo neanche una connessione per fare in live su Twitch Ce l'ho ma non ho mai fatto il video Perché sono andato di qua? L'unica donazione che ho ricevuto è di stato un certo Antonio Ti ricordi? Un euro durante quella live Un euro che mi ha scritto Ti potrei pagare un caffè grazie a Bomber Complimenti per i 100 mila Solito ricordi Perché sto spaccando? Vabbè andiamo Sei shiftato Perché hai shiftato Bomber? Sì, sì Poi trovi sotto la lava Muori Ci sta a morire, no? Allora, guarda Allora C'è qualcosa Dove, là? Andiamo là? Però devo fare un ponte Mi sa Eh, se non hai feather falling Sì Eh frate ma se Ho un'armatura in fe Qua dietro era Cioè Ma io dico No, no Scavo Ma scavo? Eh sì Proprio aggressivo? Fai prima Vabbè Non sprechi tutti i blocchi Vabbè andiamo Mica tutti i blocchi C'è uno stack Marco ma c'è solo 17 pezzi di carne Ma sì Ma sti cazzi Dai Facciamo challenge Allora ragazzi No, no, no No, no, no Mangiamola d'oro Mangiamola d'oro Un attimo Bomber Non sto capendo più un cazzo Aspetta un attimo Perché c'era Una, una, una Un attimo Ho spuntato Che ignoranza Calma un attimo Passa di lato Te l'ho detto Passiamo di lato Tu non mi ascolti mai Non hai i riflessi pronti Eh stavo guardando te Calcola Allora Allora E rischiamo di morire Facciamo una cosa Se arriviamo Alla modica cifra 1333 mi piace Ci sta È fattibilissimo Molto fattibilissimo Una cosa un pochino meno 1.7 2.000 2.000 è abbastanza infattibile 2.000 Marco metterà hard Sulla vanilla Io sto giocando con Norman Raga lo sapete dai Io uso hard No ma hard è troppo hard Cazzo Poi sul server mi sembra Che è maggiorato l'hard Zio Pera Poi è maggiorato C'è le tante più grosse Se tu guardi la mia Il nether Il mio In hard Non riesci a giocare Seriamente Ma sai che l'altro giorno Stavo registrando Tu che l'altro giorno Cercavi di skate Le Wither Ne ho trovati un fottio Ma se vuol dire quanti Sono un'immagine Ho trovato le teste Eh no fratti Non c'ho la spada seria Infatti dovresti trovare Dio lo stesso Allora cosa faccio Scavo sotto e scendo A cazzo duro Buttati Ok perfetto C'è un'altra mano Chest Così Lo sapevo Fermo No non ci credo Fermo Oh mio dio Fermo Fermo Oh mio dio Ciao Simo Tutto bene? Io sto registrando qui A casa di Marco Ciao Simo E no Alla prima chest Ha trovato ciò Nel nether peraltro Neanche Oh mio dio Non ci voglio vedere Oh c'è un C'è un ghast La lascio qua Ma ricordo La lascio qua La prendilo La prendo Metti in caso che muoio Eh che cazzo ne so Io non muoio mai Eh tu non muori mai Fratti io sono scarsa Lo sai Sto guardando un po' di qua Come posto Ma non ti fa niente Tranquillo Tu gira sempre Ma io ho paura dei ghast Vado? Sei sicuro? Vai vai Ma fa rumori brutti Il ghast Giù C'è un botto di nether Dove mangiare Prendi le nether Eh si lo so un attimo Fratti Allora qua Prendi anche tutta la No quella spada no Un attimo Tanto mi serve la netherworld Utilizziti Vabbè ma sti cazzi Non lo so se ne uno dieci Li togli Prima a vedere Quanto utilizzare Facciamo così Guarda No no fermo Guarda quanto utilizzare Sulla spada Qua Non insegna F3H Devi fare F3H Sì ma da Devi toglierla E Ok tolgo la E F3H F3H Vai fai E E Guarda quanto è la spada Ah bomba Ne ha 1555 Prima a vedere adesso Spacca qualcosa Guarda Vado Fa te Ok non te li togli No perché c'era una versione Che era buggata Ah ok Togli anche il sotto La soul Cioè la pala Eh non c'ho la pala mate Però non posso nemmeno farmela Vabbè lascio Ce la cittiamo Come c'è Ce la cittiamo Non sembra Sì dai c'era un botti Sinistra Sinistra destra Sinistra Io sento blaze Guarda in alto C'è qualcosa Non c'è niente Torna indietro vai Ah vai dritto Lì c'è qualcosa Forse no No non c'è un cazzo Andiamo dove Di qua o di là Di qua giù Giù? Giù giù Ok qua sento un botti blaze Qua c'è la glowstone Assolutamente Di sentire non sento niente Come no mate Qua? Minchia se trovavo La sella La sella però Andiamo di qua Unisco? Sì sì Faccio un muretto Sì Ma lo bardiamo? No va bene così Ok va bene così dai Ammazzalo Lo ammazzo? C'è una cesta Diamante Oro Ce lo prendiamo Qua c'è un magma Ammazzalo non ti fa niente Sì lo so tranquillo Bona Ok Uh c'è un altro Non l'avevo visto Eh sì Mi avevo dimenticato Però Cosa frate Dimmi a me Cosa vuoi? Eh questa armatura nel nether È tipo troppo strana Io non prendo mai danno Tranquilla tranquilla Mangia Ti devi preoccupare di me La cosa buona della 1.9 È che se mangi Recuperò subito vita Ma non ho 10 No scusami Non ho 10 Non ho 11 Mi sa che non sarà così Seriamente? Non sarà così devastante Ah capito Qua netherworld Vado Aspetta Vado a killare lo scheletro qua Sì ovvio Ok Non farti beccare Dimostra da stessa testa Boom No Boom Ok Bossa Bossa niente Eh di qua Bossa è qua Prima andiamo di qua Sinistra? No dove era netherworld di qua? No Dove era? Di qua? Sì sicuro? Quante ne sai bomber? Ne sono 8 Base Aspetta Vai addosso Vai addosso Ok Ok ora che non è infuocato Buona Ok Scendo Sì sì scendi con caro C'era la netherworld là Potevo prenderla frate Non l'hai presa più Eh no Non l'ho presa tutta L'ho balzato un pezzo Vai vai prendi sta netherworld Non sono salito veloce frate Quanto? Ma di che non ti basta il cibo? Ma secondo me A parte che posso usare a massima di me D'oro Con sti cazzo C'è un botto di oro Sì ma non sti cazzo Non l'ho mai fatto Nella mia serie Dai scendiamo Ma io sono tenero frate Chest Hai beccato una bella Minchia No hai beccato una Però prendi la Laura Sermore Di iron La prendo Sei sicuro? Eh sì Ma c'è quella in diamante Ma scusa Ma andetene le tue È per fare lo sbroffo con Simo Fancolizzatevi Quanti bisogna Simo? Nessuno la sua Zul 300 Hai trovato una Non l'hai trovata? Non l'hai trovata No sono sicuro Andiamo su Dai La fai la chiud Culo Allora mettiti una torcia qua Qua Mettila in mezzo qua Così sappiamo che siamo andati Ok Sento ancora L'omani di blaze Vai a sinistra Sinistra Destra Destra Di qua Destra Frate tu mi dici sinistra Sinistra dritto No dritto Sinistra Di qua dove vado? No di qua niente È chiuso qua Qua è chiuso Qualche base Spacca 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 in fondo Spacca qua vai da un'altra parte Vai destra Ok andiamo a destra vai C'è questo L'abbiamo già preso? No Ma dov'è che sparano Prendi tutto Prendi tutto Non tranquillo Ma frate sto già finendo tutto lo spazio in inventario Non ti fa niente Allora di qua Andiamo? C'è lo schedo? Aspetta eh Occhio al pigman Ok Buona Qua niente Nada Di qua sono già andato? Sì che non c'era un cazzo No è un altro Era un altro Niente Torniamo indietro Un mini pigman Destra siamo già andati frate Destra giù Non siamo andati giù Giù dove? Giù Dove giù frate? Ah qua sotto? No non siamo andati perché è chiuso Spacchiamo? Sì Allora vai Mink ho detto frate Frate però mi stendo un attimo Destra Di qua però non sono ancora andato eh No no Vabbè 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 Sfatti che mangio un attimino Guarda là che bello Oh che benessere Allora andiamo Occhio Calma un attimo aspetta Vai dritto vai tranquillo Eh ma mate guarda quanta roba c'è C'è anche la lava Muoio io Vai dritto vai Corri Devi solo correre Marco Lieviti e basta Vai a sinistra A destra vado frate Vai a sinistra A destra Come a sinistra Chiudi la dentro a sinistra Dove? In fondo a sinistra Non sto capendo una minchia Dritto Vai Vai corri Sta salendo Sta salendo frate ho paura Vabbè ormai sei nella merda Come cazzo ho fatto? Eh vaffanculo C'è qualcosa che mi colpisce Uh La testa del Wither Aspetta che Ok Calma un attimo Allora Non ci voglio credere Cioè io sto prendendo tutto quello che voi non avete preso fino adesso Lo sai? Vai dritto non ti fanno niente Scappa Ma c'ho paura lo sai No no Lascia di perdere Fammi di killare ormai No ok Così mi ammazza Vai dritto Vai in fondo di là E mo vado dai Su forza C'è un'altra testa da prendere qua Lo sai? Sali Eh mo salgo Minchia che risciotta mi ha fatto quello Se c'è il Dove vado? Calmati frate Qua mangiamo un attimo Dove vado? A destra Destra o sinistra? Destra sei sicuro? Torna indietro a destra No a sinistra Bello Spero che ti becchi un gasto Grazie frate Sei l'amore di qua? Bello Divido il video in due parti perché è benedicato davvero tantissimo Ed è la una di notte e sono tutto sfatto E domani ho una sveglia alle 5 perché sto guardando il microfono Niente Ho una sveglia alle 5 e devo andare a Roma in macchina Guido io quindi vado a letto Non ce la faccio per evitare questo video Ci vedo in prossima Ma che è tutto Bella